C'è stata un escalation importante nell'Aretino per quello che riguarda i furti in abitazione, all'interno delle auto e nei supermercati nelle ultime settimane. Ce lo conferma il comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Aldo Poponcini, che dice potrebbe essere colpa della crisi economica. Sì, le ragioni sono molteplici, sono dovute, non voglio dire la frase del caro bollette, però sono dovute a questa precarietà sia economica in cui il paese sta avvolgendo. I furti sono per la maggior parte di lieve entità, ma numericamente importanti. Rispetto al 2019, nello stesso periodo dell'anno, è stato riscontrato un aumento del 15%. Diciamo che i furti che siamo dovuti intervenire sono quotidiani, dal piccolo intervento che si avviene per un furto al supermercato, al furto al corriere che in Corsi Italia scarica il proprio furgone, i pacchi, il negozio, al furto in abitazione. Tutte le forze polizia negli ultimi due o tre settimane stanno intervenendo, intensificando il loro operato su questa escalation di micro criminalità. Un riferimento lo faccio soprattutto a una serie di furti di lieve entità, in cui si può arrivare sia all'arresto o esclusivamente alla denuncia. Quindi non sono furti che portano a grossi valori, almeno io non faccio riferimento a quello. Questo vi fa pensare che è soprattutto legato all'aumento, insomma, che possa essere legato alla crisi economica? Esatto. Molto, secondo la mia modesta opinione, è che possa essere legato alla crisi economica. Grazie. Grazie.